Si prepara un evento a settembre, il WTU, che sarebbe una mostra mondiale sui siti UNESCO. Io mi sono permessa non solo di invitare i siti UNESCO, che sono già tanti presenti nella nostra città metropolitana, ma anche quelli che aspirano ad esserlo, nonché quelli che dovrebbero esserlo, anche se non lo sono. Quindi sono convenuti qui praticamente da 15 comuni, 15 sindaci o amministratori di 15 comuni, e tutti hanno espresso grande entusiasmo per la partecipazione a questa manifestazione, che quest'anno si terrà dal 20 al 24 a Siena. Lei ha fatto anche una proposta molto interessante, ha detto che Napoli potrebbe addirittura ospitare una prossima edizione. Indubbiamente. Due anni fa ci legammo a Padova e fu anche quella una bella manifestazione. Quest'anno è a Siena, l'anno prossimo nulla viete che sia a Napoli. Grazie.